amiche cari buongiorno come state spero bene allora oggi vi voglio far vedere un piccolo trucchetto con la lana oppure con il cotone un trucco per creare uno spessore maggiore al vostro filato scusate non mi veniva il termine allora vi è mai capitato di fare dei lavori e doverla ma vendo un filato più fine e magari non avendo l'opportunità o il momento di andarlo ad acquistare se avete lavorato con due o più gomitoli per rende magari il filato più doppio allora oggi vi mostrerò un trucco che renderà io in questo caso vi faccio vedere la lana renderà il vostro filato tre volte di spessore cosa vuol dire cioè con un filato con un filo voi andrete ad avere un risultato finale che equivale ad un ad una lavorazione di tre gomitoli uniti insieme sembrerà un po difficile ma ora vi faccio vedere allora io ripeto in questo caso ho preso la lana vi ricordo della promozione attiva ancora sul mio sito di tantissimi filati scontati del 90 per cento credo sia ancora attiva per altri 12 giorni mi raccomando dateci un'occhiata e troverete veramente dei filati stupendi detto questo vi faccio vedere allora prendete il vostro filato è uguale se lana o cotone però deve essere anche di sapete col filato sfumato quello che a voi al momento serve per renderlo più doppio allora cosa facciamo prendete il vostro la vostra lana ok appoggiatela in questo modo poi prendete nuovamente sempre lo stesso lo stesso capo diciamo la stessa testa del della lana e piegato le verso destra ok aspettatevi faccio lo faccio un po più piccolo così vedete ok vedete all'inizio sono andata a sinistra sono andata a destra vado nuovamente a sinistra ok allora cosa succede succede che sposto la lana che poi devo iniziare a lavorare abbiamo la testa curva a sinistra curva a destra ok io adesso lo faccio leggermente più lungo però vi ho fatto vedere la posizione di come si sistema altrimenti poi non riesco ad avviare mi è un po scomodo per avviare il lavoro ma è sempre quella da sinistra da destra scusate mettete la testa andata a sinistra nuovamente a destra nuovamente a sinistra ok con il dito fissate e fermate questo lato ora prendete così prendetele tutti e tre e qui uscirà una cosa così questo è quello che dovremmo proseguire nella lavorazione allora fate in questo modo lo fissate tra le dita puntata l'uncinetto e fate il giro io lo faccio così per avviare il mio lavoro vi lo faccio rivedere io prendo così qualsiasi tipo di filato qualsiasi tipo di inizio di lavoro a parte se non è fatto col mio amato nell'omaggio lo inizio così punto con le dita fermo dietro punto davanti faccio un giro vedete e poi faccio la mia maglia bassa prendendo tutti e tre i capi che quindi non escludete nessun nessun capo prendete tutti e tre i fili passate fate la vostra maglia bassa stringete questo sarà il nostro nodino di inizio e continuate con le vostre maglie basse che guardate allora io ho preso un uncinetto numero 4 giusto per farvi vedere una prova magari lavorando la lana 3 prendete uno più spesso logicamente vedete allora il filato esce veramente doppio vi faccio vedere tanto quello posso aprire con la filato semplice poi ve lo metto a fianco e vi faccio vedere la differenza guardate allora questo logicamente andrebbe lavorato con un tre e mezzo questo è il filato lavorato semplice e questo è lo spessore col filato lavorato a 3 vedete cambia veramente tanto io questo lo dispo perché non serve ora vi faccio vedere come proseguire allora lavorate fin qui finché non finisce la nostra curva ok una volta che arriviamo alla nostra curva e ci siamo già cosa facciamo ora che succede la curva sa per finire e questo filato è il filato del nostro gomitolo passiamo semplicemente il nostro filato attraverso allora vi faccio vedere questo è il nostro la nostra curva il filato passatelo attraverso la nostra curva e tirate vedete si è nuovamente creato il filato attraverso il filato attraverso il filato attraverso passiamo semplicemente nella nostra curva nel nostro il nostro cerchio come lo vogliamo chiamare e tirate 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 e avete nuovamente il filato a tre guardate e continuiamo così il lavoro qui finisce la nostra prima inizia la nostra seconda curva guardate non si vede neanche la differenza e questo io vi do un consiglio non fate non tirate molto filato attraverso la nostra curva altrimenti poi magari si può pure attorcigliare tanto non ci vuole ci vuole neanche un secondo a farlo vedete io sono nuovamente arrivata alla alla fine ora mi ritrova perché poi lavorando il filato di che segue diciamo il filato che dobbiamo passare nella curva sta sopra che non fa niente visto che sta sopra lo passiamo in mezzo alla nostra curva al nostro cerchio lo tiriamo e continuiamo come abbiamo fatto prima quindi o si trova dal lato sottostante o dal lato sopra non è veramente un problema proseguite il vostro lavoro guardate non si vede nulla è una una semplicissima catenella fatta più spessa e questo questo tipo di lavorazione lo potete veramente fare anche con il cotone qualsiasi altro filato che voi avete magari disponibile e volete rendere più spesso è molto molto comodo vi ripeto magari se io quando vado a fare le fiere senza portarmi tanti tipi di filate se mi serve un tipo di filato più spesso faccio in questo modo proprio per evitare di lavorare con tre capi magari se attorcigliano può succedere che si fanno i nodini uno con l'altro invece in questo modo avete un filato doppio con un solo capo piegato a tre vedete ok spero che questo piccolo video vi sia stato utile vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al mio canale condividete i video se vi piacciono lasciate un like niente che dirvi ci rivediamo ad un prossimo tutorial credo che è una cosa che verrà usata data da tante da molte persone visto che io lo uso ma non mi svelo cosa è un vi dico solamente che è un contenitore un piccolo contenitore di queste di un rettangolo lo andrò a realizzare con il cotone che ho acquistato sul mio sito e poi vi svelerò di cosa si tratta vi lascio vi mando un abbraccio mi raccomando se ne avete voglia visitate il mio sito online troverete tantissimi articoli scontati e ci rivediamo al prossimo video ciao